Devo dire la prima cosa, io ho preso il posto di Angelina Alfano e la prima cosa che dico con convinzione, ma perché è vera, chi mi conosce sa che se devo dire buggesto zitto e che Angelina Alfano ha fatto uno splendido lavoro al Ministero della Giustizia. La riforma del processo civile che in questi tre anni è stata portata avanti da Angelina Alfano è una riforma che come ho avuto modo di dire non è eccezionale, è rivoluzionaria, ma riguarda ahimè il processo civile. Siamo passati da 33 riti speciali. A tre riti, ma principalmente la mediazione, la riforma del codice di procedura civile, insomma è stata una stagione rivoluzionaria per il processo civile, ma quello non riempie le pagine dei giornali nonostante che nelle cause civili vi sia un punto virgola due del PIL secondo quello che afferma la Banca d'Italia. Nel dire questo non posso evidentemente non dire anche di tutti gli interventi che nel binomio Maroni-Alfano sono stati fatti sul piano della sicurezza. A ciò devo aggiungere che mi trovo con un ministero che ha pronte diverse e molteplici riforme e conseguentemente mi trovo con un plafond di possibilità già studiate e analizzate e valutate. C'è l'imbarazzo della scelta. Diciotto mesi sono sufficienti. Io penso di sì. È vero la manovra finanziaria, le difficoltà economiche, ma se mi passate questo piccolo vanto, ma in un mese noi abbiamo varato al Senato ieri la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, che era una riforma che tutti aspettavano da decenni, una riforma difficile perché tocca i campanili, ma una riforma assolutamente necessaria sia sotto il profilo del risparmio di spesa, sia sotto il profilo dell'efficienza del servizio giustizia. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire togliere dei tribunali minori che assistono dei bacini di utenza non particolarmente rilevanti sotto il profilo quantitativo e che vengono gestiti da giudici non specializzati, concentrare una parte del lavoro sui tribunali maggiori, recuperare 900 magistrati, recuperare quasi 5.000 unità di personale amministrativo e garantire la specializzazione dei giudici, il tutto evidentemente con grande vantaggio per il servizio giustizia.